volevo invitare i cavallieri di malta qui a darmi una mano per favore e ragazzi dell'associazione e volevo pregare a tutte le persone che stanno qui vicino a me a spostarvi sopra la fontana perché qui deve essere tutto libero tra dieci minuti arriverà la maschera nostra l'uomo cervo grazie ecco qui c'è questa salita sopra la fontana qui sopra